Per me correre è stare a contatto con la natura, io sono un'amante della natura e quindi diciamo che per me adesso è stare anche con i bambini perché abbiamo i nostri figli e quindi per noi correre è anche stare un po' al passo con loro, passo sempre più lento il nostro è sempre più veloce loro. La Corsa di Michele noi la nostra società la facciamo sempre, è una costante, quindi tutti gli anni partecipiamo, la nostra società è questa, di fondazione bodistica, quindi per noi è un evento importante soprattutto per quello che rappresenta, è un messaggio importante, quindi va fatta. La Corsa deve essere anche quella, deve essere anche un modo per esprimere pure dei pensieri fortemente, perché uno fisicamente fa un qualcosa, un'attività, però lancia anche un messaggio in prima.